salve a tutti e benvenuti in un nuovo video e oggi voglio parlarvi della mia opinione su questi nuovi processori apple silicon e si apple il 18 di ottobre 2021 ha presentato finalmente la line up per i professionisti dei nuovi processori a tecnologia rm l'evoluzione dell m1 che è considerato da utilizzo home per quello che possiamo dire anche se poi abbiamo visto che le caratteristiche di questo processore sono davvero molto interessanti ha presentato e ha pensato ai professionisti presentando ben due processori m1 pro e m1 max e io mi sono domandato io mi aspettavo soltanto un processore e mi sono domandato perché due processori e non uno non è tanto per venire il contro e professionisti ma penso che sia più di vocazione commerciale quella di poter vendere due processori differenti una con caratteristiche molto più elevate e l'altra con delle caratteristiche leggermente inferiori allora andiamo un attimo a ragionare a vedere questa differenza tra questi due processori partiamo sempre dal concetto che sono entrambe sempre la stessa tecnologia dove all'interno del singolo processore troviamo i core dedicati alla cpu e core dedicati alla gpu ma in questo caso specifico nel caso del pro e del max sono stati inseriti molti e molti più core grafici rispetto a quelli della cpu perché mentre l m1 a 8 core come cpu e 8 core come gpu l m1 pro a 10 core come cpu mentre a 16 core o 14 in base a queste due versioni che hanno realizzato 16 core gpu oppure 32 nella versione max e sono davvero tantissimi ma come possiamo sfruttare tutti questi core di gpu beh con tutti i software che normalmente utilizzano i professionisti quali possono essere software di montaggio software grafici ma anche software di elaborazione audio perché molti calcoli li stanno spostando proprio per questa tecnologia negli ultimi anni stanno spostando una gran parte dei calcoli verso i processori gpu piuttosto che quelli cpu tutto questo cosa significa beh tantissima potenza in più e poi l'ha presentato e ha fatto vedere tra tutti i dati che ha mostrato che nel nel caso della della cpu m1 max comparata alla parliamo della parte gpu comparata alla più performante gpu che possiamo trovare in commercio su un laptop ottiene poco meno delle stesse performance ma con il 70 per cento di consumo di corrente in meno e poi l'ha puntato tantissimo su appunto ancora tantissimo sul consumo della corrente perché meno corrente gira all'interno dei processori di transistor più si possono creare transistor piccoli quindi c'è meno dispersione meno calore meno corrente che viene utilizzata inutilmente e significa anche batteria che si può utilizzare più a lungo anche perché c'è una differenza da fare quando si parla di processori gpu che vengono utilizzate sui laptop c'è una differenza sostanziale quando si utilizzano a batteria o a corrente quando sono a corrente hanno il pieno utilizzo quando sono a batteria invece vengono castrate via software per non consumare tutta la batteria mentre apple ci fa presente che questi processori funzioneranno al massimo delle loro possibilità in tutte le condizioni a batteria e non quindi questo è un punto a favore di apple questa è una cosa che io ho vissuto sulla mia pelle quindi so che cosa significa e sono molto soddisfatto del prodotto apple per professionisti io non so se farò un upgrade verso questi nuovi processori a breve ci sto ragionando ho cominciato a pensarci ma non penso che lo farò subito perché per ora le mie esigenze m1 funzionano ancora bene tablettino alla mano andiamo a fare una configurazione che secondo me io utilizzerei perché se andiamo a provare a fare una configurazione del max del possibile max di questi m1 sui macbook pro adesso parliamo anche un attimo dell'aspetto estetico di questi nuovi macbook pro perché apple sa ammettere quando sbaglia e infatti è tornato un pochino dietro sui suoi passi e letteralmente ha reinserito il magsafe richiesto a gran voce da tutti che sarebbe il connettore per la per la ricarica magnetico che era comodissimo perché permetteva di non far cadere laptop a terra quando per caso si passava davanti al carica batterie ha mantenuto però la possibilità di ricarica via porta usb c cosa importantissima perché comunque molto comoda ha reinserito due cose fondamentali una porta hdmi e il lettore per l'Sd perché il realmente se un computer per professionisti i professionisti utilizzano l'HDMI e il lettore sd perché è fondamentale altrimenti camminiamo sempre con i dongle appresso vabbè vediamo un attimo quali sono queste configurazioni possibili io voglio andare in max size stiamo esagerando naturalmente su macbook raw a 16 pollici arriviamo a 6.000 e 7.000 euro ma andiamo a vedere un attimo da come è configurato allora abbiamo 64 giga di ram unificata ma che cosa significa unificata voglio un attimo chiarire questo termine lo hanno spiegato all'interno della presentazione apple però spero che penso che non si sia stata capita abbastanza la memoria ram in questi computer con m1 come costruita non sono i banchi i moduli di ram inseriti all'interno del computer a disposizione della cpu ma ci sono dei banchi ram montati direttamente a fianco ai processori quindi letteralmente saldata a fianco ai processori così da permettere una minor distanza possibile per lo scambio dati e che significa ram unificata che la stessa ram viene utilizzata contemporaneamente da cpu e gpu quindi potenzialmente abbiamo nel max 32 core di gpu a 64 giga di ram che paradossalmente è un è una cifra esorbitante per una gpu quindi non male quindi abbiamo 64 giga di ram unificata sempre per questo concetto vabbè 8 tera di ssd ram secondo me sono un po' esagerati e basta perché sono queste le due configurazioni che possiamo fare naturalmente ho selezionato m1 max da 10 core cpu e 32 core gpu davvero tanti ma voglio parlarvi di quella che la configurazione che io realmente farei e io andrei invece su un macbook pro da 14 pollici hanno fatto questa doppia versione quest'anno da 14 da 16 per il pro e secondo me dipende dalle caratteristiche chi ha già una workstation fissa allora secondo me dovrebbe prendere un 14 per lavorare e per fare i piccoli lavoretti chi invece basa tutto il proprio workflow sul 16 pollici su un portatile allora il 16 pollici può essere la soluzione perfetta anche perché ha una batteria molto più capiente e quindi ci consente di un utilizzo maggiore del tempo in pratica allora io vi parlo di quello che della configurazione che io farei io so sul mio portatile più di 512 giga di ssd non utilizzo perché io sono abituato a portare con me i file su ssd esterni ora oltre 32 giga di ram su un portatile non andrei ho avuto un macbook pro da 16 pollici con 64 giga di ram e non li ho mai sfruttati proprio perché almeno per l'utilizzo che ne faccio io anche quando facevo grafica 3d 64 giga di ram erano davvero troppi su una workstation fissa li utilizzo perché faccio davvero multitask contemporaneamente ma sul portatile realmente ne faccio uno per volta quindi secondo me 32 giga di ram sono più che onesti e sul processore su cosa punterei beh io penso che questo m1 pro sarà molto meno acquistato oddio allora con i prodotti apple è sempre un enorme punto interrogativo perché per 500 euro di differenza possiamo avere il max size dell m1 max quindi questo pro ha davvero senso di esistere parliamo di core grafici in meno ma se molti calcoli vengono spostati dalle cpu alle gpu allora probabilmente tutto il ragionamento deve basarsi letteralmente sulla parte di gpu perché sostanzialmente i core cpu sono uguali per il pro e per il max quello che realmente cambia è la quantità di core gpu e alcuni core secondari di cui parleremo fra poco io mi baserei baserei quello che è la mia architettura al momento su un m1 max con cpu da 10 core naturalmente ma 24 core di gpu risparmiando circa 230 euro in realtà questa è la configurazione che farei io ma probabilmente andando a fare qualche comparazione tutto questo dipende naturalmente da qualche test che andranno dobbiamo vedere un pochino i test che usciranno successivamente potrei puntare addirittura su un m1 pro quindi con 16 core di gpu e arrivare a circa 3 mila euro di budget per questo portatile da utilizzare per lavorare ma 3 mila euro hanno davvero così senso beh parliamo un attimo di noi videomaker che utilizziamo il computer per lavorare tanto una cosa fondamentale che utilizza mac normalmente e molto probabilmente utilizzerà dei formati che si basa sono si basano sul codec progress e codec progress insieme al codec dnx sono i codec di compressione più utilizzati al mondo in ambito broadcast quindi dopo i file raw che escono dalle cineprese troviamo questi file con cui si fanno la maggior parte dei workflow lavorativi e uno dei calcoli più grossi che viene richiesto alle gpu è quello proprio di codifica e decodifica dei codec video all'interno di entrambi questi processori troviamo sia dei core dedicati solo alla codifica decodifica h264 e h265 ma troviamo sia per il pro che per il max dei core dedicati solo alla codifica progress questo cosa significa che noi possiamo affidare ai nostri software come ad esempio final cut pro dei file in progress anche 4k 8k fine a 7 tracce o 4 tracce adesso non ricordo bene qual era la tabellina che ci presentavano di decodifica progress lasciando praticamente inutilizzati core della gpu perché perché c'è un core specifico per la codifica e decodifica del progress che si occuperà esclusivamente di decodificare codificare in tempo reale il materiale in progress quindi questo è un enorme vantaggio perché utilizzando quel determinato formato avremo i core di gpu liberi per far riaffrontare altri calcoli mentre decodifica codifica h264 h265 e progress e stiamo parlando praticamente che alleggeriamo di del quasi 100 per cento del calcolo quando andiamo per quando andiamo a montare i core sia cpu che gpu e ancora di più nel max dove questi core specifici dedicati al coding e encoding sia h264 h265 che che i core dedicati al progress sono moltiplicati per due quindi in pratica abbiamo ancora più potenza e possiamo utilizzare molti più stream quindi flussi in contemporanea di file progressi in 4k o addirittura in 8k ed è questa la chiave di volta non tanto avere i 32 core di gpu che realmente potrebbero essere eccessivi almeno che facciamo una color molto complessa sul file raw in da vinci oppure facciamo render gpu con i software che ormai ci sono ad esempio faccio l'esempio di cinema 4d e i suoi redshift che è un motore di render che è basato su gpu allora lì tutti questi core hanno un senso di esistere perché li sfrutteremo tutti quanti all'ora massima potenza quindi ci sono dei pro e dei contro ma tanto dipende dal dall'utilizzo che realmente ne facciamo e tanto dipende realmente da il nostro tipo di mercato quindi quindi creare una macchina full spec beh potrebbe essere semplicemente contro non controproducente ma sarebbe un buttar soldi mentre crearla con oculatezza in base a quello che è il nostro utilizzo e quello che noi ne facciamo tutti i giorni questa può essere una scelta davvero interessante piccola chicca in chiusura abbiamo un monitor in hdr quindi possiamo fare color in hdr sul monitor del macbook pro questa è per i professionisti del color grading del video making è un plus non indifferente un monitor hdr per lavorare decente costa davvero tanti soldi non parliamo dell'hdr per giocare ma parliamo dell'hdr broadcast per lavorare di base tutti i display apple sono sempre stati di ottima fattura non dei gradi 1 quindi non affidabili al cento centomila per cento ma ci arrivavano molto vicino quindi sono sempre stati davvero d'aiuto sui set per poter lavorare sui set non solo è anche per la proprio da studio per poter lavorare da studio quindi avere un monitor anche hdr che ci permette anche questa tipo questa tipologia di lavorazione è davvero un plus è probabilmente un must per filmmaker videomaker colorist dieti quindi tutte queste figure professionali che ne hanno bisogno realmente quindi passare a questa tecnologia a fare il salto di qualità del portatile beh qui ha davvero molto senso insomma questi sono è un riepilogo barra mie opinioni su questi due nuovi processori che ha pubblicato che ha presentato apple io sono molto interessato non vi ripeto non so se farò un upgrade a breve ma sono molto curioso di vedere i test e perché no commentarle anche con voi ma ditemi voi cosa ne pensate voi attualmente cosa utilizzate se farete un upgrade iscrivetevelo qui sotto in descrizione così ne possiamo parlare insomma siamo giunti alla fine di questo video vi ricordo di lasciare un mi piace se questo video vi è piaciuto di commentare e quindi interagire con me se vogliamo parlare e di iscrivervi al canale per non perdervi tutti gli altri video che usciranno insomma cos'altro dirvi io vi ringrazio per la visione noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video